Mi prude il naso? Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi con un grandissimo piacere che vi presento Massive Darkness 2 Hellscape, che è la nuova scatola base del continuo di Massive Darkness, che è un gioco, tutti voi lo conoscerete sicuramente, un dungeon crawler dei più famosi e anche amati, a cura dell'Akmon, e portato in Italia da Asmod Italia, che colgo l'occasione per ringraziarli di cuore per la copia appunto ricevuta. Quello che vedrete oggi sarà unicamente l'unboxing, perché ve l'ho detto, dei giochi, cioè, vedete la scatola, con più contenuto, cioè, e soprattutto più attesi, con tante cose da mostrare, vi farò sempre due video. Il primo sarà l'unboxing e nel giro di qualche giorno, 4-5 giorni, vi farò direttamente anche il cosa ne penso. Quindi in questo video andremo ad esaminare cosa c'è dentro la scatola. Vi premetto già che c'è tanta 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 roba da vedere. Dopo la sigla. Massive Darkness 2, Hellscape, edizione italiana a cura di Asmod Italia, è il continuo diretto di Massive Darkness, un gioco che nel tempo, fatto dagli stessi di Zombicide, l'Akmon, nel tempo ha avuto un titolo base, più tante altre espansioni sotto forma anche a volte di pacchetti con nuove miniature, nuovi nemici o vere e proprie espansioni, che aggiungevano a nuova Italia la mappa, nuove storie, nuove cronache, nuovi oggetti, nuovi personaggi, ma soprattutto nuovi mostri, in quello che è diventato un dungeon crawler veramente molto vasto, anzi uno dei più gettonati e dei più ampliati perché ha veramente tantissima carne al fuoco. La meccanica del gioco perché viene chiamato Massive Darkness? Perché c'è il concetto di luce e oscurità. Quando gli eroi che dovranno sempre cercare di combattere nella luce, combatteranno senza malus, quando si ritroveranno a giocare a combattere i nemici nell'oscurità, oltre ad avere dei malus, vedrete che il mostro ha due varianti. Alla variante è quando lo combattete alla luce e quando lo combattete all'oscurità. Quindi i mostri nell'oscurità, sia normali che elite e boss, saranno sempre più forti. Però, come vi ho detto, il regolamento è qualcosa di cui ho già parlato nel precedente video, che vi lascio qui con una nota video, così potete cliccare e andare a vedere il video che fece al tempo di Massive Darkness. In questo le meccaniche sono state leggermente ampliate, ma le meccaniche sono sempre le stesse. Quindi un motore, come dico sempre, che funziona bene, è inutile ritoccarlo più di quanto era doveroso fare. Magari sì, svecchiarlo un pochino, aggiungere una regoletta, ma nemmeno tanto, forse snellire un po' quelle già esistenti. Massive Darkness, secondo me, non ce ne aveva bisogno, perché è un gioco veramente molto veloce, c'ha tante carte, mostri primo livello, tesori primo livello, secondo livello, secondo livello, quindi c'ha tanti mazzi, ma una volta capito il funzionamento, c'ha tante carte, ma è un gioco veloce, veramente, secondo me, molto più veloce questo che non un Descent, ad esempio. E nel contenuto della scatola, come ci si poteva aspettare, c'è un mare di roba. Già è spessa veramente tantissimo e quando l'ho andata ad aprire, c'è un set di 68 miniature, tra cui mostri, normali, elite, boss e i personaggi, e ricordo essere un gioco da 1 a 6 giocatori, quindi si può giocare anche in 6, un tavolo pieno di amici, dai 14 anni in su, sì, l'età mi sembra giusta, e 120 minuti dura una partita, che secondo me, secondo me le due ore ci va un po' stretto, perché una partita Massive Darkness, magari un chiarimento su una regola, un combattimento, un discorso, si sa che quello che ci è riportato sulla scatola, poi non è veritiero, un gruppo ci sta perlomeno il doppio del tempo. Abbiamo nuove mappe, nuove storie, ovviamente, nuove carte, nuovi oggetti magici, nuovi tile, e ovviamente un'infinità di nuove carte e nuovi oggetti, che vanno a comporre tutta quanta l'ambientazione, basata sempre dentro un dungeon o un di sotterranei, perché Massive Darkness è un dungeon crawler, e questa volta ci troveremo a fronteggiare altri tipi di nemici, come vi dà un po' anche il suggerimento, il sottotitolo Hellscape, e ci troveremo a fronteggiare dei mostri veramente molto particolari e soprattutto demoni. La componentistica, come ci ha sempre insegnato l'Akmon, è di altissimo livello, quindi siamo a livelli veramente molto alti, e ci sono delle miniature, come vedete ora dal video, veramente belle, dettagliate e grandi, che sono un piacere anche per coloro che vorrebbero dipingerle, e anzi Massive Darkness è un prodotto che messo sul tavolo e dipinto da una buona mano, fa anche uno spettacolo veramente assurdo, e attira veramente tanto lo sguardo, perché una buona pittura unita ad delle miniature di qualità veramente alta, è uno spettacolo anche per gli occhi. L'Akmon è segno di qualità. Sì, è vero, è vero, i loro giochi, come ha detto qualcuno, hanno sempre un costo medio-alto, però venite ripagati da quello che c'è dentro, perché l'abbiamo visto, comprate un qualsiasi titolo base, ma anche in espansione di Zombicide, e aprendo la scatola c'è. Sì, magari uno dice, l'ho pagato 80-100 euro, però per il contenuto che c'è dentro, o ad esempio mi viene in mente Zombicide Invader, quello con gli alieni, ambientato nello spazio, cioè apri la scatola, ti senti male dalla roba che c'è dentro, cioè bellissima. E quindi, ancora una volta, non resteremo delusi. Io voglio ringraziare Asmod Italia per avermi offerto questa copia, ripeto, soltanto video unboxing, perché il Cosa Ne Penso uscirà fra pochi giorni, quindi il prossimo video che vedrete sarà direttamente il Cosa Ne Penso di Massive Darkness 2 Hellscape. Vi ricordo, ma ve lo ricorderò anche nel prossimo video, come in tutti i video, se lo volete ordinare, primo link in descrizione e in sovraimpressione dalla Gioco Libreria Simola, nostro negozio sponsor, non solo al miglior prezzo sul mercato, ma usate sempre il codice discount Coridan 7 al momento dell'acquisto. Codice discount Coridan 7, tutto scritto maiuscolo, per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79 euro, lo riceverete a casa in 48 ore, anche fuori dall'Italia, isole comprese in tutta Europa, senza spese postali. Quindi comunque è un servizio eccellente. Se lo trovate nel catalogo, è finito, non c'ha più copie, bollino rosso, o proprio nel catalogo non c'è, scrivete una mail a Corrado, al proprietario della Gioco Libreria Simola, e mandate una mail al supporto. Fateli presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Coridan, e che vorreste questo gioco. Lui farà il possibile per trovarvelo, anche se è finito o fuori catalogo. E usate sempre il codice sconto, ma se vi posso dare un consiglio d'amico, affrettatevi, perché è uno dei prodotti più attesi del 2022, e sta andando a ruba. Quindi si rischia, come nel caso anche di Curse & City, di non trovarne più copie. E non si sa nemmeno se ci sarà una ristampa. Quindi affrettatevi a comprarlo, perché è il continuo diretto di tutto quello che avete amato nel primo Massive Darkness. Ciao ragazzi, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti!